Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovissimo video Yes baby bentornati Oggi ci ritroviamo con un nuovissimo video vlog Un po' strano, non è proprio un video vlog Cos'è? E' uscito un nuovo video Dei Pokémon, in realtà è uscito 25 settembre, però io ho pensato Ehi, facciamo la reaction esattamente ora New Pokémon Meltan Magari qualcuno l'avrà già sentito nella Pixelmon Di Eren Qualcuno l'avrà già sentito da qualche altra parte Questo è il video ufficiale dei Pokémon Ora quindi andremo a vedere cosa succede Episodio 1 Un nuovo Pokémon è stato scoperto Ciao Professor Oak, mi puoi sentire? Ciao Willow Cosa mi vuoi inviare oggi? Ok, è un Pokémon speciale Oh, non mi dimenticare, è un Pikachu? No, non è il solito piccolo Pikachu E' un Eevee? No, è un Ditto Ok Questa era la mia prossima scelta, vabbè Non è un solo ditto Ah, ecco, voglio mostrarti quello in cui si è trasformato Poi tira fuori il telefono Guarda questo video Chiedi, cos'è questo? Chiedi, cos'è questo? Non ho mai visto questo Pokémon Non ho mai visto questo Pokémon E' un nuovo Pokémon ancora non scoperto Ci sono state varie forme di questo Pokémon in ultimi giorni Si è trasformato in un Ditto Lui dice di averlo già visto Dice che di aver letto il giordo di questo Pokémon Dice che pensa che sia un Pokémon mistico Meltan Sì Questo è il testo Ah, ok, mostra il testo praticamente Che nel gioco Pokémon sarebbe stato Comunque è in Pokémon Go Quindi Probabilmente sia stato aggiunto io Chi lo sa? Sono eccitato di averlo trovato Cercherò più informazioni impossibile O inviami pure il ditto Sono stato veramente fortunato Inviamolo No, no, ciao Praticamente il foto ve l'ha fatto breve È una cosa strana per lui Non so cosa voglio dire E comunque c'entra con i giochi di Let's Go Pixel Pikachu e Eevee Ecco E qua ci sono Ecco in Pokémon Go E quindi raga Questo era un video Quanto breve Ho cercato di tradurre il meglio che posso Visto che io non so l'inglese Però qualcosa Qualcosa avrò capito O comunque se non Se non l'avete visto Vabbè c'era Scritto qui sotto Quindi basta che fermate il video O vi andate a vedere l'originale Raga Spero che il video vi sia piaciuto Lasciatevi, iscrivete, commentate Sinceramente Non è che mi faccia impazzire Cioè Mi piace il contesto In cui è stato inserito Ma il Pokémon Inserimi Bianco Così con la testa Dorata Se facciamo il corpo Magari di un altro colore Un pochino più dettagliato Così Guardando anche queste immagini Qui che ora avete Qui sotto Non è che mi faccia proprio impazzire Però dai Sembra una bella giunta Che possa dare belle avventure Per i giochi E quindi ci sta Quindi raga Spero che il video vi sia piaciuto Lasciatevi, iscrivetevi, commentate Un plass e vi Ciao raga Grazie a tutti